Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. A piangere Totò Schillaci non è solo l'Italia ma anche la città di Palermo dove era un idolo. L'ex campione ha rappresentato un punto di riferimento per tantissime persone che continueranno per sempre a voler bene a una persona che ha fatto grande anche una intera città. Totò si è speso molto per la sua città e quando c'era da scendere in campo per qualche iniziativa sociale non si tirava indietro. Annia sembrava che la patologia che lo aveva colpito stesse regredendo, che fosse quasi un brutto ricordo, mentre poi è tornata improvvisamente nell'ultimo periodo. Poi la decisione della famiglia. La camera ardente di Schillaci sarà infatti allestita presso lo stadio. La famiglia ha voluto così in quanto solo in questa maniera si può onorare alla grande una personalità che ha fatto la storia del calcio e non solo. Per queste ragioni e di concerto con i familiari, l'amministrazione comunale, per rendere il giusto tributo a Schillaci, ha voluto mettere a disposizione lo stadio Barbera per l'allestimento della camera ardente e ringrazio il Palermo Football Club per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Questa è l'informativa del Comune di Palermo.